Preparatevi ad applaudire tutti i nostri amici pariglianti, vi rivedrete sicuramente nelle altre piste della Sardegna ma sicuramente saranno militati anche in altre località, dalla penisola all'estero per regalare emozioni un po' a tutti anche perché nei vari pali, sia in avia di cento, alla maggior parte dei fantini, sono sardi, lo sappiamo tutti di conseguenza ci sarà un motivo applauso per tutti, grazie, gentilissimi grazie per il vostro applauso, per questi cavalieri e ammazzoni abilissimi